Avrei una torta incredibile, una sensazione che sarà deliziosa. Beh, se lo dici a te. Dobbiamo se lo aggiungere... Ecco, Twix. Cosa? Twix? No, 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 no. Ecco, voglio questo. Cosa? No, io voglio dei cioccolatini. Ma, come per Twix? Ecco, cosa farò con i tuoi cioccolatini? Così. Pensi di poter schiacciare il cioccolato senza il cioccolato? Ci puoi scommettere. Prendi. Cosa hai fatto? Vuoi guerra? Ci sarà una guerra. Ma cosa sono tutto quanto del ciamarrone? Ti faccio vedere io. Saprai come versare uno sciroppo su di me. Ehi, basta. Questa è la fine della mia pazienza. Ma cosa succede là? Ma cos'è? Oh, no. Ecco a te. Cosa hai fatto? Ho appena pulito la cucina. Ma non ti vergogni. Sapete cosa? Ma che rabbia, ragazze. Potete risolvere tutti i vostri conflitti in una sfida. Almeno posso fare una pausa senza di loro. Sembra che ci sia una sfida che ci aspetta. Please. Anche con le torte. Vabbè, comincio io. Vediamo. Questa ruota gira all'infinita. Ma nessuno mi impedisce fermarla da sola. Cosa? What's up? Mia, è il tuo turno di gira la ruota. Spero almeno di essere fortunata. Ok. Ma se c'è una faccia in pazienza, perché non ricevo nulla. No, mi sbagliavo. Ho preso tutto. E la parte migliore è che posso preparare la torta e renderla ancora più direziosa. Ma devo rontarla. Ma come si fa a distribuirla bene? Prova. Buona. Aspetta, so cosa fare. Un asfato. All right, all right, all right. Awesome! Sei vero delizioso. Mi piacerebbe provare questa torta. E non è tutta. Ora spalmo bene il cioccolato. Ora possiamo abbassare i cioccolatini. È necessario sbarazzarsi delle empolocri. È molto importante non sbagliare in dimensioni. Quindi è importante misurare prima di tutto la torta. Bene. Ora posso creare una torta bellissima. Ok, questo è spettato. Hai il wasabi? Già. Ma è piccante. Ma io sarò coraggiosa. Non ho paura di un wasabi. Non resta che distribuire un wasabi sulla torta. E posso usare... Sì, la spatola. Non credo che ai miei rispetterebbe. C'è anche un po' di Nutella. Sola, son. Fatto. Naturalmente non ci sai rilavare la spatola. È bello rispire la mia. Così, aggiungo un po' di wasabi alla sua torta. Sì. Che cioccolata verde. Che wasabi, Kate. Ma come fai a non vergognarsi di te? Ma come si permette? E se mi colpisce l'oltre? Tutto qui? Basta. È ora di mangiare. Credo che Kate abbia perso la testa. Augurami buona fortuna. Come è andata? Bene. Devo provare io la mia torta. Awesome! Wow! What? Wow! Non riesco a fermarmi. È davvero una bomba incevolata. Bomba incevolata. Io invece non ho una torta. Ma un vero e proprio fuoco. Che farò bene la mia bomba per bruciare l'auto. Via! Ecco. Adesso sarai punita. No! No! Oddio, l'uovo! Si sta bene. Saprei come rubare la mia torta. Non credo che sia necessario mettere l'uovo nella torta. Sono d'accordo che questo può finire solo la tua testa. Ah, per regola! Sono tutto quanto bagnata! No! Sarà delizioso, è mia! Perché sta dormendo? Gino! Oh, sì! Evviva! Ho preso la collezza! Vediamo cosa tengo io. Cibo per i cani! Ma non è affatto divertente! Ah, devi mangiare! Ma c'è un tarbarino di dolci deliziosi che mi aspettano. Nessuno può impedirmi di mangiare. Vabbè. Ma perché devo assaggiare il cibo per i cani? Forse è buono. Ma non riesco ad aprire. Ah, c'è una striscia speciale. Ecco. Oh, no! Oh, ha solo l'odore e mi fa vomitare. Ma a me piacciono queste leccalecche. Sono così acidi e buoni. Uh, ottimo! Incredibile! Il risultato è bellissimo. L'importante è che sia anche delizioso. Proviamo. Awesome! Sì, si sente che aspro, ok? Smetti di guardarmi e mangio. Oh, no! Devo riuscire a confezione. No, è troppo. Penso che una manciata va bene. Awesome! No! Di più! Please! Ok. Perché? Oh, no! Sei felice? Ma e ora devo provare? Vabbè. Lascia fatta la torta e lascia a desiderare l'altra. che schifo. Come fanno i cani a mangiare a questo? Ehi, ciao, amicola! Sei arrivata giusto in tempo. Guarda quanto ci vuole. Cosa? Da dove viene questo cane? Non lo sopporto. Sono allergico. Via! Sei davvero molto cattiva. Se il cane può mangiare, posso farlo anche io. Oh, no! Oh, no! Non posso! Ma di quali sono le menze? Anche le mie caramelle sono acide. Anche troppo. Mezzilo che faccio. Piccato che il metalife non sia lontano. Però, aspetta! Mentre tu sei lì, io do da mangiare a questi cane. Il cane di nuovo! Kate, hai infatti di nuovo le regole. e non hai mangiato quello che ti è scaldato. Ecco, tempo di la ruota e le posizioni. Ma forse no? No! Devi farlo. Oh, no! Mi rivederò il trucco! Beh, sarà comunque divertente. Ho bisogno di lovarmi! Penso che ti stia. Molto bene. una sfida. Adoro questo pasto. Una di noi deve girare la ruota prima. Fantastica! Augurami buona fortuna! wow, le patatine! Che bello! Oh, no, 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 guarda i verbi! Stai barrando, Jennifer! Guarda, queste erano le patatine! Bene, prenderò qualcosa di bello. no! 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 aglio! Penso che siano più buone le patate. È ridicolo. Ma dov'è? Ah, meno male, non c'è. Ma questa collana d'aglio indica il contrario. Che buzza! Sì, gentile, e segnala lontano da me. Ma cosa ci devo fare? Non voglio mica mangiarla. Ma che raggi sapere cosa fare? Mi chiede cosa? Adesso vedrete con i vostri occhi. Per cominciare toglierò tutto questo qui dello spago e poi comunque non ha capito nulla. Allora, aspetta un attimo così tolgo le bucce andiamo a vedere. Sono sicura che il mio piano ha funzionato. Ecco, è pulito. Fantastico. Te l'avevo detto? Ma comunque l'odore è terribile. Purtroppo ha ragione. Ok, posso comunque disporlo bene sulla mia pizza. Guarda, ha un cuore. Non è carino? Eh, sì, sembra buono. Ma credo di poter fargli meglio. Posso fare un vero miracolo con queste patate. Le cospargo così sulla superficie della pizza e poi le distribuisco. Ecco, tutta un'altra cosa. Penso che sia un capolavoro. Eh, hai fatto un tuo ritratto eternibile. ancora questa pizza d'aglio. Eh, dai, su, non va a dare le piccole cose. Ma gottese l'arte. Ah, questo mi aiuta. Mangia la pizza. Mangia nooo, 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 non è possibile. Queste sono le regole, devi mangiarla o sarai punita. Oh no, oh no, 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 non sono pronto per questo. Beh, è colpa tua? Ok, capisco che dovrai usare il frullatore. Lascia che ti aiuti. nooo, mia, ti prego, siamo amiche. Proprio così. Io aiuto gli amici. Nella situazione si vedrà davvero spiacevole. Ecco, guarda. Che bello. Lascia che te lo versi in bicchiere. Nooo, mia, non serve. Ma guarda, quanto è buona. E se ti piace, bevela. Nooo, non posso apriarvi di questo piacere. Va bene, va bene, allora guarda e vergognati. Oh, non mi vergogna affatto. È divertente da guardare. Questa è la peggior bevata del mondo. Ora il mio halide puzza. Credo che ci sia qualcosa di marcio qui dentro. Che c'è la bocca? Scusa, non ho sentito quello che ti ho mai detto. Appunto, mia. ma cos'hai? Torni a te. Sembra che sia svenuto da un po'. Dobbiamo prendere un po' d'aria qui. Mia, svegliaci. Sono svenuta. Uh, le patatine, male. Era ora che facessi un passo come si deve. Ok. Sono pronta a far girare la ruota. La ruota. dai, su. Buona fortuna. Vorrei essere tovernata, ma non so non bene cosa dire. La situazione è ambigua. Oh, ma cosa? Un pesce puzzoletto? Per fortuna c'è anche la nutella. Ma temo che non mi salverò. Vabbè, spero di avere qualcosa di più buono. Uh, che bella acida, che bella sorpresa. Eccole, guardale. Un barattolo pieno, fantastico. Sono molto felice per te, ma onestamente la cosa che più mi piacerebbe fare è scambiare il posto con te. Però c'è un'altra opzione. Io uso solo la nutella. Spero che questa non sia contro le regole. Che buona che è. Mia, credo che tu stia infrangendo le regole. Eh, non so di cosa stia parlando. Sto sparmando solamente la nutella. Non è così facile come pensavo. Ma cosa stai facendo, Mia? Il regole non era necessario. Bisogna avversare su dalla fase del barattolo. C'è ancora un po'. Devo legare tutto quanto. È così buono che non riesco a staccare il regole. Non riesco. Aiutami. Eh, dai, Zinzi, è forte. Sto per portartelo via. Attenta, attenta. Mi dispiace, ma non posso fare nulla. Guarda. si è staccato da solo. Congratulazioni, è una bella notizia. È il mio turno di provare le mie prelepatezze. Queste caramelle devono essere molto, ma molto aspra. Proverichiamo. Dai, non è male. Proviamo. vediamo. Sono pronta a mangiare tutto e devo anche decorare la pizza. Ma magari condividi con me. Oh, no. No, 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 no. Voglio fare delle briciole. Ma penso che funzionerà. Ci puoi scommettere? Smettere, edificare il naso negli affari. Miei. Guarda, ce l'ho fatta. davvero fantastico, brava, ti ammiro. Ecco, mi era completamente dimenticata di avere anche il pesce. Vabbè, facciamo finita. Già, la mia pizza è pronta. Ma credo che manchi qualcosa. Il pesce. Ah, eccolo. Ma che attento che sei. Questo mi fa arrabbiare. Speri che si adoperà le tue pizza. Ma sembra di orgostoso. Il pesce la rovinerà. Ma vabbè, non ho altra scelta. Hai fatto molto un bel lavoro. Non riesce a mangiarla. Sono pronta a provarla. Che pizze deliziose insolita. Anche la mia. Non è male, ma il pesce rovina tutto. Se non ci fosse mi piacerebbe di più. Per fortuna non c'è nulla da cambiare nelle mie pizze. Perfetto. Ma cosa con la faccia? Ma finisce la tua porzione. Ok, devo finirla. Sono stufa di mangiare questo pesce. Oh no, la tassa è così disgustosa. Voglio lavare la bocca con un sapone. Ma dove stai andando? Come potete vedere, anche il piatto più gustoso può essere rovinato se si aggiunge una cosa sbagliata. Sbagliare la bocca. con un sapone. Sbagliare la bocca.